Io devo dire che ringrazio Mario Perrotta e naturalmente Lorenzo Stefania del Teatro Puccini per aver voluto che uno dei massimi più prestigiosi teatri fiorentini ci aiutasse come fa il teatro attraverso lo stimolo a una riflessione per pensare a ciò che avvenne cento anni fa, la prima guerra mondiale. Un momento per la nostra Italia importante da un punto di vista di strategia generale di identità del Paese perché indubbiamente la prima guerra mondiale è il consolidamento di quella unità che si era creata 50 anni prima quindi era una nazione giovane l'Italia, riuscimmo a stare dalla parte giusta, vincemmo la guerra ma contemporaneamente la consapevolezza dei sacrifici in termini di vite umane, in termini proprio di identità di questi giovani che stavano facendo l'Italia, un'intera generazione se ne andò, 660 mila morti in Italia e il simbolo di tutti loro, spesso siciliani che nelle freddissime trincee scavate nel fango, nel carzo e nei luoghi di confine poi venivano gettati all'assalto con la ghigliottina ecco in quel dramma umano il militegno 8 fu allora un simbolo, questa salma, non sappiamo di chi che fu trasportata dai luoghi dove si era svolta la guerra con in ogni stazione ferroviaria l'applauso di centinaia e centinaia di persone fino ad arrivare a Roma ed essere collocata al Vittoriano e ancora oggi quel milite ignoto il simbolo di tanti universi di individualità, di giovani italiani che dettero se stessi per la patria e il fatto che possa essere oggetto di una bella rappresentazione teatrale in un teatro prestigioso della Toscana come il Puccini è un omaggio che complessivamente facciamo a una pagina di storia che non va sepolta Grazie